Quanto è grosso! Tyrant! Cosa? L'hanno liberato per me? Meno male che era una ragazzina debole, una recluta! Andiamo ad abbandonare lo spray curativo perché sicuramente mi servirà nella zona medica Poi... AAAAAH! Resident Evil Zero Bendetto caro mio Bendetto! Ehi gente questo è il video del beventusok con questa nuova puntata su Resident Evil Zero Votatemi per il prossimo Resident Evil come... 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 interprete farò io il menu iniziale, fate proprio una petizione dite, oh vogliamo un video, vogliamo un video e vedrete che verrà una cosa stupefacente, mi aspetto no, sto per entrare di nuovo in un mondo in cui regna la follia, mi dispiace, purtroppo non hanno aperto abbastanza biscotti della fortuna per darci delle citazioni decenti Comunque, siamo qui con Billy e Rebecca e cosa abbiamo fatto? Abbiamo affrontato dei rettiliani questo me lo ricordo, abbiamo salvato la partita, non ho abbastanza spazio per raccogliere la pistola purtroppamente, quindi dovrò abbandonare il nastro ho dato la mia pistola forte Rebecca perché non ha armi per difendersi oltre al... oltre... vabbè non ha armi per difendersi, ha solo lanciagranate che fa cagare, e cioè che è scarico non fa cagare, è scarico scusatemi e adesso devo utilizzare Rebecca per fare che cosa? raccogliere il mio... ok il mio rampino che ho già e poi scendere giù e utilizzare il rampino per salire su quindi scendere la scala assolutamente forse... dovremmo cambiare costume in quanto la puntata precedente abbiamo utilizzato questo non mi avete ancora detto nei commenti qual è il vostro preferito forse perché non ve l'ho mai chiesto potrebbe darsi no, fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito e lo utilizzeremo per tutto il resto della puntata io ora come ora direi di passare ai soliti costumi che abbiamo ha vinto questo no, 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 no quello è quello che mi fa più schifo mio dio mi dispiace, non mi piace questo utilizziamo... utilizziamo questo perché... non lo so sono... sono un cirle di roso nell'animo no, non semplicemente mi piace di più l'azzurro rispetto al verde rispetto al verde, al bianco e tutti gli altri colori che abbiamo quello in pelle anche non è male quello di default è carino anche quello di default non è male però... uh, munizioni per il... per il coso ah, forse adesso posso aprire la porta la porta è adesso aperta ma no, non dovevi entrare maledetta dovevi solo aprirmela scusami mamma mia mamma mia questa si... ah, adesso... ah adesso è proprio aperta e posso andare in tutte e due le zone in ogni caso sicuramente devo utilizzare la roba elettrica su questo si vede proprio da un chilometro si vede da un chilometro che è il terminale di controllo poi devo utilizzare anche questo che avevo trovato giù vicino al coso quindi adesso a posto il treno funziona alla grande possiamo andarcene possiamo andarcene allora c'ha pure... cioè dovrebbe essere una funivia però c'ha pure come cavolo si chiama quelli per... per pulire i tergicristalli maledizione non mi veniva la parola tergicristallo vi rendete conto quanto sono stupido? voi direste sì la funivia è stata attivata quindi adesso dobbiamo raggiungere il nostro build mi chiedo se posso scendere con il mio rampino sembra troppo alto per poter saltare giù come non ho detto come non ho detto andiamo Rebbi andiamo Rebbi Rebbi ciao siamo fani scendere? perché no? scendiamo le scale e... niente diamo queste munizioni extra al nostro amico Billy perché è l'unico che ha il fucile a pompa muoviti! adesso la mia domanda è se noi ce ne andiamo via io abbandono un rampino mi sai che funziona un po' come il treno quindi secondo me funziona un po' come il treno sono piuttosto convinto quindi nel senso che se lo lascio qui verrà comunque teletrasportato quindi abbandono questo a terra nel caso mi dovesse servire dopo perché sicuramente questa funivia ci porta in un'altra zona del gioco in un'altra area vercio prendiamo... ma in realtà c'ho spazio aspetta in realtà lo spazio ce l'ho quindi possiamo prendere anche lui pensavo che... pensavo di abbandonarlo qui giusto per il bene del... del gioco ma... niente oh! oh! cos'è questo? ah una scimmia pensavo fosse un essere umano infetto l'ha sculacciata a sangue l'ha sculacciata a sangue e di nuovo ci separiamo maledizione Billy sei un giga gigante di 3 miliardi di chili ti sei fatto buttare giù a una scimmietta così da un macaco quanto è grosso cos'è? penso sia l'uomo... ah! è lui! che devo fare? no! non mi avrai mai! cosa? ma che cavolo è sto coso? che devo fare? eh... non lo voglio affrontare eh... 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 no! aspetta! ce l'ho! ce l'ho! ce l'ho! ce l'ho l'idea vai vai! sei! geniale! geniale! è giusto? l'ho evitato? non lo so devo raggiungere il treno mi sono andato nel panico e devo semplicemente raggiungere il treno è giusto? devo fare qualcosa qui? questa macchina... no! è caduto... è caduto coso? non è che per sbaglio ho fatto la cosa giusta? vuoi vedere? vuoi vedere che per sbaglio ho fatto la cosa giusta? non lo sapevo minimamente io sto scappando dal coso non è che avrei potuto prendere la porta ma dovevo raggiungere il treno è saltato... è saltato questo l'ha tolto... l'ha tolto mister... mister biscia ok allora mettiamo questo oh che panico che panico maledetto bastardo maledetto marreno mi ha fregato di nuovo ma come ha fatto Ottolio? ma poi che ne sa lui che deve togliere quella roba per raggiungere e dire... ma buon dio che genio del male è? prendi questo è che... ma secondo me ce lo porta dietro se ci... no ascolta lascialo qua tanto se dovesse servirci ce lo porterà dietro no? un po' come quando c'è stato lo schianto del treno e ci ha portato tutti gli oggetti del treno avanti adesso dobbiamo andare al treno di sicuro il modo più veloce per raggiungerlo è sicuramente di qua il fatto che incontrerò di nuovo il nostro amico il nostro amico pennuto non è pennuto ma... il nostro amico... il nostro amico viscido mi auguro solo che sia rimasto lì aaaaaaah ma è veloce eh è più veloce di prima prima non correva così ora è proprio agitato poi veramente c'ha un raggio tremendo delle sue... cagate... cagate luride ok è morto morto non è che ha delle munizioni oh oh mamma mio oh oh è la Desert Eagle oh 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 sì abbiamo finalmente la Magnum e io ho avuto culo perché ho le munizioni... no ho lasciato le munizioni della Magnum a billy Porca puttana stavo per dire ho avuto culo perché ho lasciato... ah pensavo fosse dall'altra parte l'avvio ho lasciato per sbaglio le munizioni a billy maledizione Però abbiamo la Magnum, dai 8 colpi rispetto al lanciagranate che ci serviranno di più E la Magnum è più potente del lanciagranate Strano Strano perché normalmente ti viene da pensare Beh, un lanciagranate Spara dei piselloni esplosivi così Voglio dire, dovrebbero annientarlo in un colpo Di questo tizio non mi fido Completa l'area del laboratorio Grazie caro, grazie per il complimento Qui posso tornare indietro? Oddio, posso tornare indietro E io ho lasciato... Oddio, non mi costava niente portarmela dietro Non mi costava niente portarmela dietro Vabbè Speriamo che non ci serva Speriamo che non ci serva E tornare indietro Pensavo che sarebbe stato di nuovo una scena intermezzo E saremmo passati all'approssimare E ci avrebbero droppati tutti gli oggetti Invece no Maledetto Maledetto Marrano Usa Combina Lo so, non è una cosa che dovrei fare però Considerando Considerando la disponibilità del spazio È la cosa più intelligente da fare Non c'è niente qui Oh Andiamo di qua va Beh figurati Figurati È chiusa a chiave dall'altro lato Però è verde la luce Doveva essere rossa A questo punto Sei chiusa a chiave dall'altro lato No Oh Non c'è niente di qua Devo trarli qua Sono cieco Sono cieco in questo gioco perché Vi ripeto L'ho detto all'inizio Non l'ho mai giocato Non ho più palito di cosa debba fare Quindi Mi devo più o meno Mi devo più o meno organizzare Io vi consiglio sempre Quando entrate in una stanza mirate Se vi mira automaticamente Vuol dire che c'è un mostro Uno zombie Questo Ah Questo lo posso utilizzare Oh sì Non so dove porti Ma mi conviene esplorare Mi conviene esplorare l'altro L'altra zona Perché c'è una porta lì Sicuramente chiusa Non fa Cioè L'ho fatto per niente Che sarà sicuramente chiusa Ah no Ok Esploriamo tutte le porte E poi proseguiamo Verso l'approssimare È la cosa più intelligente da fare Generalmente Almeno so che se trovo un oggetto Dopo Ok È una save zone questa Almeno so che se trovo un oggetto dopo Spray per il punto di soccorso Ah non ho più spazio So che se trovo un oggetto dopo Dovrei Cioè almeno so dove mi serve Oh madonna Cosa ho trovato Granate Dammi qua Dammi uguale a granate Ma non potrò raccogliere Perché sono pieno C'è pure una macchina da scrivere Dovrei salvare la partita Ah alla fine non è successo quel gran che Non è successo quel gran che Eh su Cioè Se hai spazio ti fa vedere La possibilità di combinare Se non ce l'hai Ti fa questo casino Questo bordello maledetto Ok Usa Ok Abbiamo anche sei colpi per il lancio a granate Quindi siamo Abbastanza tranquilli Siamo abbastanza coperti Almeno Io dico Almeno Visto che c'è Tutta questa cosa Dallo spazio limitato Impossibile da aprire Come è impossibile da aprire Pensavo di poterci entrare Dico Visto che c'è tutto questo problema di spazio Almeno Dovrebbero Dovrebbero darci la possibilità di salvare Senza utilizzare i nastri Almeno questo Perché devo dire che è un dito in culo Anche quello Però Il gioco è così La cosa è Non ho Purtroppo non ho abbastanza spazio Per Prendere oggetti chiave Quindi dovrò abbandonare per forza qualcosa Lancia granate sicuramente Ora che ho la magnum Non è più così tanto appetibile Però Vorrei essere un pochino Diciamo più Risparmiatore In termini di munizioni magnum E utilizzare il lancia granate E quello è il punto E non lo so Non lo so Me lo porto dietro E casomai abbandono il lancia granate Da un'altra parte Non c'è una mappa di questo posto Devo andare alla cieca Ok c'è una porta Aperta apparentemente Zombie non ce ne sono Sta pistola veramente Potevi mettere Un mirino No Ologramma Avete presente Uno di quelli Con puntino rosso Magari Un reflex Qualcosa del genere Ma mettermi questa robetta qua E' terribile Come concetto E' una cosa veramente Orribilmente Orribilante Orribilmente Orribilante Oh c'è un oggetto qui Oggetto chiave Chiavi per qualcosa Oh madonna mia E ora siamo Siamo nei bordelli Eeeh Avrei dovuto abbandonare lo spray Nella zona medica Non mi aspettavo di trovare Un oggetto così importante Andiamo ad abbandonare lo spray Curativo Perché sicuramente vi servirà Nella zona medica Poi Vago Oh madonna mia L'ho shuttato Oh ce n'è un altro Ma mi prendi per il culo Mi prendi per il culo Mi equipaggio a questo Ah Cosa E' ancora vivo Mi equipaggio a questo Non voglio utilizzare troppe granate Per sta merdina Ancora vivo Ma mi prendi per il culo E' ancora vivo Ma creatura di merda Ma lurida bestia Ma crepa Mi ha sparato con il lancio a granate Ed è ancora vivo Ma scusami Sei pazzo Oh L'altro è morto Di brutto Due Sempre due Me ne mandano Uno ancora ancora Lo puoi affrontare con la pistola Lo raggiri Questi sono due Porco di sé Che cazzo devi fare Ti attacchi Ti attacchi Ce ne sono altri qua Ok Apparentemente no Non ancora Non ancora La chiave mi sa che mi serve per Abbiamo una sola porta Che era chiusa E la chiave mi servirà sicuramente per quella Adesso abbandona questo Ok Eh purtroppo E' questa La mia storia Racogli un oggetto Abbandonalo da una parte Racogli l'altro Abbandonalo dall'altra Dai una cosa Ricarica Non si sa mai Sì mi direste Ma io perché non uso l'inventario Per combinare gli oggetti Perché Perché sarebbe più o meno Lo stesso tempo Vabbè magari Mentre utilizzo un oggetto Posso profittarne Per fare combine Tutto il resto Ma anche lì Ah Che spavento Che spavento La mia Chiave della fabbrica Sì l'unica porta chiusa Alla fine Ah c'è qualcosa N'esposizione Oddio Sembra Sembra coso Il Tyrant Sembra un umanoide gigantesco Sospeso in un liquido Biorganico all'interno di una capsula Avete presente il Tyrant Sarà mica il Tyrant Anche questo Però sembrava una versione un po' più brutta Del Tyrant Quello lì almeno sembrava un Non lo so Un po' più Perfettino Un po' come Wesker Questo sembra veramente Un prototipo di Tyrant Una versione brutta del Tyrant Un vomito di Tyrant Vabbè saliamo su Potrò utilizzare le erbe mediche Effettivamente Giusto per arrivare a Un livello di salute Un po' più decente Adesso le chiavi mi servono Ziguramende per qui A ziguramende per chi A ziguro ziguro di qui E' normale che non mi danno Troppi oggetti chiave Da portare dietro Perché pensate magari Per quel gioco lì Come si chiama Per il primo resident evil Che ti servivano magari Quattordici Cosa Sono confuso Chiave dalla fabbrica Questa è la fabbrica zio Ah ci sono delle scale No io sono qui E ci sono delle scale Sono salito sulle scale E dove Poi ho usato l'ascensorino What Mi serve per un macchinario Questa chiave Esamina Cosa mi serve U U cosa Chiave U Chiave su U Che Ah no Aspetta il portello Può darsi Che sia il portello Ho visto questa grata Mi ha fatto pensare Al portello impossibile da aprire Può darsi Mi viene in mente niente Ve lo giuro Chiave con su scritto U Dov'è che l'ho vista Io di sicuro Non l'ho vista Nessuna parte Ma mi viene Mi viene in mente Che qui Potrebbe esserci Quella Quella grata lì Che non potevo aprire Quella grata che non potevo aprire Magari mi serve lì la chiave Può darsi Potrebbe darsi L'unica altra zona Che mi viene in mente Possibile Ah no aspetta C'è un oggetto qua No Niente What Io sono in crisi Dove cacchio mi serve Qui Un pannello di controllo C'è una Oh ok Sì allora è qui Ok Ce l'abbiamo Cosa serve Cosa abbiamo Un ascensore Un ascensore di servizio Interest Interest Ex Zin 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 Qui è dove siamo passati prima Quella passerella C'è una mappa Ok Ah no è proprio qui Non è neanche la passerella È proprio dove c'è la Scensore Direttamente lì Dovrei salvare la partita Adesso Nah Nah Stiamo troppo forti Noi Non creperemo di sicuro Non creperemo mica Noi Però Meglio raccolare lo spray medico Va Non si sa mai Zombie non ce ne sono Se no avrebbe mirato Automaticamente Sì prendi Rebbi Rebbi Prendi lo spray Medicus Oh oh Sembra un'area da boss fight Non so voi ma a me sembra un'area Da boss fight Questa Tipo tizio marmellata lì Oh Mi devo utilizzarlo Bastare la piattaforma girevole Perché no Oh Questo attirerà tante bestie Tante tante No No questa è una boss fight Ve lo dico io Ve lo dico io che questa è una boss fight Cosa salta sulla piattaforma con me Non ci casco Non ci casco Non ci casco minimamente Sicuramente arriva qualcosa No Allora quando risalirò Quando dovrò risalire Arriverà qualcosa Che mi saluterà In tutta la sua In tutto il suo amore Zombie non ce ne sono Dice qualcosa che brilla ma Sulla porta c'è scritto Sala di sicurezza Non c'è bisogno Non c'è bisogno di perlustrare questo posto Perché Cosa è successo Io volevo raccogliere Quell'oggetto brillante Oh oh Sopre succedere qualcosa di brutto Ah E' dei nostri E' Enrico E' Enrico questo vero Sei vivo Stai bene Rebecca Dove sono tutti Sarebbero dovuti arrivare qui prima di me Non li hai visti Questa non ci voleva Continuiamo di qua Arriveremo a una vecchia villa Che l'ombrella usa come laboratorio Mamma mia che mentone Sembra Crimson mentone Sembra questo tizio Aspetta devo raggiungere Bill Billy Cohen Vuoi dire che hai trovato quel criminale? Sì ma ci siamo separati Non ti preoccupare di lui Non riuscirà a sopravvivere Forza Andiamo Enrico ti prego Devo trovarlo Non preoccuparti Ti raggiungerò Rebecca Va bene Fa il cazzo che vuoi ragazzina Lascia una povera ragazzina Non l'ho mai più visto Non l'ho più visto da allora L'ha abbandonata così I cazzi tuoi Sono affari tuoi allora Se crepi non è la mia responsabilità Una chiave E di nuovo dobbiamo abbandonare della roba Maledizione Ho troppe armi Avrei dovuto abbandonare la pistola Allora che ci prendo No la pistola Abbandona questa Enrico Maledetto Marrano Maledetto Marrano Chiave Aspetta fammi vedere la mappa Qui Questa porta si apre C'è una porta rossa È già per l'us Come ho già per l'us Non sono neanche entrato Ho già per l'us Stato quest'area Va bene Lei sa tutto Qui Non c'è Cosa? Ma perché? Perché? Magari ci sono 300 lanciarazzi È l'armeria della Umbrella Non c'è bisogno Per illustrare questo posto Al momento non funziona Con questa chiave Che cosa ci faccio zio? Chiave Dell'ascensore E quale ascensore? Ho provato ad esaminare tutto Ma è tutto chiuso Di qua Devo usare qui la chiave Per caso E questo è l'ascensore no? C'è una chiave da inserire Magari in un pannello di qua? No Chiave dell'ascensore No No Quella era chiusa dall'altro lato Quella porta Chiave dell'ascensore Sono in crisi raga Non si muove più What? What? Ah no Aspetta Questa adesso posso per illustrarla? What? What? Che cazzo devo fare? Non lo so È tutto che mi dice Non c'è bisogno di perlustrare quest'area Non c'è bisogno di perlustrare quest'altra Qui non c'è bisogno di perlustrare Ma buon dio Quello non funziona Non si muove più Questo non si muove più Che cazzo vuoi zio? Ma sei pazzo? Ma sei pazzo? E poi veramente Guardate Rebecca cosa sta affrontando Sta distruggendo creature a destra e a sinistra Ne ammazza di tutti i tipi Però Nel momento non funziona E appunto Questo dispositivo c'è una serratura Ma va fanculo va Dicevo Qui sta affrontando l'ira di dio Povera Rebecca qui Però quando arriva la magione di Resident Evil 1 È di nuovo un incapace Arriva qualcuno di molto simpatico Arriva qualcuno di molto simpatico Qualcosa Sembra 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 un Wesker Tipo Tyrant Cosa l'hanno liberato per me? Meno male che era una ragazzina debole Una recluta Manda Manda l'esercito Manda Per questa ragazzina debole Incapace Vi ricordate la Affermazione iniziale Di Wesker Oh madonna mia Ci tocca levarci dagli zebedei Non mi aspettavo una Boss fight Cioè me l'aspettavo quando sarei salito di sopra Uh che piruetta Mamma mia Spara i barili Fallo esplodere Fallo esplodere Oh mamma mia Tuerca Oh oh Ha rotto l'ascensore Alla grande Quindi Siamo fottuti Oddio sono rigoso con lui Alla grande E lo spray medico è rimasto dall'altra parte Quando mai? Quando mai? L'ascensore non è ancora arrivato Oh ok cacchio E questo Fortuna vuole che vi abbia Una magnum Tutta per te Tesoro mio Bango Sbadango È ancora vivo Sbarabango 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 Oh che paura Oh madonna mia Mi ha ficcato una martellata tremenda E io non ho più niente Fammi passare Mamma mia È tremendo sto tizio E io non ho il chiede Ah no c'è ancora un colpo La grande È bello Ma non crepa sto coso Non crepa Sette colpi di mani Ma è ancora in piedi Ma dio di cosa sei fatto Oh Oh è morto Ok mi sembra sia morto Perché non me lo fa più mirare Oh Respingi il proto Respingi Respingi Prototyrant Respingi Non l'ho ucciso Completa la fabbrica Fine del turno Ah Respingi Ancora vivo Ve lo dico io che è ancora vivo sto coso Respingi Questo vuol dire Che è ancora vivo Lo dobbiamo ancora incontrare E non c'è una pozza di sugo lì Ai suoi piedi Quindi è sicuramente vivo il coso Ok Dove porta questo ascensore Fammi indovinare Dove c'è la funivia Ah no scelgo il piano Dove c'è la funivia Però Dall'altra parte della porta Quella che era chiusa dall'altro rato All'interno È l'unica cosa che mi viene in mente Posso? Più che altro devo utilizzare quelle erbe mediche quindi Quelle erbe aromatiche Mi è rimasto un kit medico là Maledizione Non potevi farmelo raccogliere E son finito Ah e dove si è schiantato il treno? What? Sono ritornato dove si è schiantato il treno Sono ritornato alla fabbrica lì Come si chiama? Non alla fabbrica E qui ci sono dei coltelli Spray medico? No niente Ok Ho sentito qualcosa esplodere quindi Mi stavo preoccupando E usa Usa Ottimo Siamo ritornati alla fabbrica Lì all'istituto Non pensavo che ci saremmo più ritornati Evidentemente Mi sbagliavo Ok Quindi livello 1 è quello Livello 2 allora sarà dove dicevo io Per l'appunto Dove ci ha portato la funivia Ma dall'altra parte della porta Allora Non mi aspettavo Non riesco neanche a capire Che giro abbia fatto questo ascensore Per ritornare Al istituto di ricerca Al centro di addestramento Non riesco neanche a immaginare Che giro abbia fatto Ma va bene così No a noi non importa Abbiamo trovato lo spray medico Ci siamo curati le ferite E stiamo bene Stiamo da Dio Stiamo da Dio È vero che Cos'è? Non è uno zombie normale Scusa Combina Quanti erano? Non è uno zombie normale 8 Sono Hunter Sembra la passeggiata dell'Hunter Vero? Oh buon Dio Oh Oh sì È la passeggiata dell'Hunter La passeggiata dell'Hunter Questa Ancora vivo? No Cosa? È vivo o no? Non riesco a capire Continuo a fare versi È vivo o no? Maledetti Hunter Li odio È la creatura che odio di più Su questo gioco Perché sono brutali Veramente Se ti ingaggiano È difficile che te ne liberi Veramente Uh È veramente difficile che te ne liberi Una volta che ti ingaggiano Sti bastardi Prendere Sì Prendere Perché no? Adesso sono sicuramente Dall'altra parte della funi via Usa Combina Con questo Quindi Aprimi sta porta Esattamente Adesso dovrei essere Sì esatto Quindi devo utilizzare L'ascensore per tornare Per andare a livello 4 Allora Ottimo Ora che è tutto sbloccato Posso andare Più giù O forse O forse Nah Non c'è niente da investigare La magione La villa Mi pare di aver preso tutto Ma al che vada potrei prendere Il fucile da caccia Che secondo me è più forte Non l'ho provato Cioè l'ho provato sul tren Non mi sembrava così efficace Mi sembra più capace L'altro Con i sette colpi Paradossalmente Ma Oh Non avrei dovuto farlo Avrei dovuto salvare la partita Adesso basta giocare Mi sono stufato di te E dei tuoi amici Devo sbarazzarmi di te Ora niente Mi impedirà di ottenere La mia vendetta Ma quindi questo Il nipote Sbarra figlio di Marcus Non riesco a capire Non riesco a capire raga Ok fai una cosa va Vai al primo Vai al primo va Vai al primo Nooo Ho sbagliato Non al primo Non al primo Al secondo volevo andare Volevo andare Al secondo Perché devo fare una cosa Ed è molto importante Che si chiama Semplicemente salvare Però veramente Se lui è del 39 Noi siamo del 97 Quel tizio Ha 60 anni praticamente Ha 58 anni ma sembra Sembra più giovane di me Quel maledetto Forse è la barba Perché non ha la barba Secondo me È tutto quello È la barba che parla per lui Ma è strano Può darsi che comunque È stato infettato dal virus T Sono gli esperimenti del padre Marcus Ed è per questo che lui È rimasto giovane Cioè è ringiovanito Magari era un po' più anziano Ed è ringiovanito Potrebbe darsi Che abbia sperimentato Sul suo pupetto Oh Chissà Chissà Sicuramente lo scopriremo Ma Ci vorrà un po' di tempo Ma sto virus progenitor Veramente Sembra più pericoloso di Sembra ancora più pericoloso Del primo virus Il virus T Sembra molto più pericoloso Perché il virus T Alla fine Ci ha offerto le sue creature Il serpentone gigante Era pericoloso La pianta Per carità Ma tutto il resto Sembra piuttosto debole Rispetto al paragone Delle creature Che abbiamo incontrato finora Oh Ho sbaglio Ho sbaglio Ragazzi miei Abbiamo solo due colpi Abbiamo solo due colpi Prendiamo il No no aspetta Prendiamo il nastro Per salvare Nel frattempo ragazzi Mi sa che mi tocca Ringraziarvi Per avermi accompagnato Fin qui Non dimenticate Che siete migliori Ci vediamo Nella prossima puntata Bella 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 Bella